Buongiorno Don Francesco e ben ritrovati, è passato tantissimo tempo, sono successe tante cose. L'ultima volta avevamo affrontato tre argomenti, come al solito ne affrontiamo sempre tre, quindi anche oggi. Oggi vorrei invitarla, come argomento di dottrina, a parlare di Maria, cioè della Vergine Maria, perché penso che possa essere qualcosa di molto importante di cui parlare. Poi affronteremo sempre un argomento storico, questa volta le propongo qualcosa di grosso, quella specie di leggenda nera che si chiama Inquisizione, una chiesa stata infancata con questi racconti narrati in maniera del tutto falsa e poi magari come al solito vediamo una delle iniziative, le tante iniziative che come istituto voi portate avanti. Quindi mi ero preparato delle domande, le ho prese anche da un libro di Sant'Alfonso dei Cuori, Le Glorie di Maria, ma poi veniva qualcosa di un po' complicato, io invece vorrei che lei ne parlasse liberamente. Quindi chi è Maria? Sì, allora prima di tutto per un approfondimento dei primi due temi, anche perché il terzo non sappiamo ancora qual è, posso rimandare l'ascoltatore a due convegni. Sulla Madonna, un convegno che si è tenuto a Milano, a proposito di cui abbiamo parlato della mariologia, cioè la teologia sulla Vergine Maria, sia poco prima del Concilio, sia durante e dopo il Concilio. Per quel che riguarda l'Inquisizione invece vi è una giornata intera delle giornate per la egalità sociale di Cristo a Modena, in cui ho sviluppato, avendo molto più tempo a disposizione di quello che avremo adesso, questo tema. Quindi tutti coloro che vogliono approfondire possono riferirsi a questi due video, insomma comunque a queste due riunioni che ci sono state, conferenze. Per la domanda che lei mi ha fatto, chi è Maria? Evidentemente non ci sono parole, come diceva San Bernardo de Maria, nunquam satis, quindi non si dice mai abbastanza di lei. Il Concilio di Efeso, condannando l'eresia di Nestorio, ha proclamato, come tutti noi diciamo nella preghiera più comune e più conosciuta da tutti, l'Ave Maria, che Maria è la madre di Dio. È già questo termine a quale siamo abituati dalle vertigini, perché come può una creatura essere la madre del creatore, come già Dante, di cui è l'anniversario in quest'anno, nella celebre parole, vergine madre, figlia del tuo figlio. E quindi ci dice appunto, ci mostra, mette in rilievo questa caratteristica particolare della Madonna. La Madonna è una creatura, figlia di Israele, in quanto viene da questo popolo, che probabilmente in età molto giovanile, come era quella in cui a quei tempi ci si sposava, era stata promessa in sposa ad un uomo della casa reale di Davide, quindi Giuseppe. Siccome era usanza tra gli ebrei di sposarsi nell'ambito della stessa tribù, anzi della stessa famiglia, si considera che anche la Vergine Maria fosse della casa di Davide come Giuseppe, quindi entrambi discendenti da questo gran re. Tuttavia la loro famiglia era diventata modesta agli occhi del mondo, anche se grande agli occhi di Dio, e vivevano in Galilea, non più a Betlemme, a Nazareth. Da una parola della Vergine Maria durante l'Annunciazione, come ci è raccontata dal Vangelo di San Luca, noi vediamo che la Madonna aveva fatto voto di verginità. Com'è possibile che avvenga tutto ciò, cioè che io sia madre del Messia e madre di Dio, già che non conosco uomo? E questa domanda non ha altra spiegazione, già che doveva essere, era promessa sposa, se non già in un certo senso maritata con Giuseppe, non ha altra spiegazione se non per un comune intento di Maria di Giuseppe di conservare la verginità. E questo è particolarmente importante e diciamo anomalo, non solo perché due persone che meditano il matrimonio, che sono sposate rarissimamente e ha ragione, fanno questo voto, ma anche perché nel mondo antico e anche nell'Antico Testamento non era in grande stima la verginità quanto piuttosto il matrimonio. Per capire esattamente la missione della Vergine Maria bisogna rifarci innanzitutto a quell'avvenimento nel mese di marzo, il 25 marzo, tra poco, quindi dell'Annunciazione, quando l'Arcangelo Gabriele si reca a Nazareth e si rivolge a questa giovanissima chiamandola Ave, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra tutte le donne. Tutti i privilegi della Madonna, che gli attribuisce giustamente la Sacra Scrittura e la Chiesa, girano tutti attorno ad uno, cioè la maternità divina. Abbiamo detto Maria è madre di Dio. Tutti i privilegi che a Maria è perché nel piano divino doveva essere la madre di Dio. E sempre nel piano di Dio tutto ciò è quindi legato all'incarnazione. Ecco, la presenza della Madonna nella fede cristiana è strettamente correlata con l'incarnazione, cioè Dio che si fa uomo, ma ha voluto farsi uomo dal seno della Vergine Maria, come diciamo nel credo. E c'è di più. Quando San Paolo ci indica in Gesù Cristo il nuovo Adamo, cioè l'uomo perfetto e non purtroppo l'uomo miserabile del primo Adamo caduto nel peccato che ha portato nella rovina tutto il genere umano, così i padri della Chiesa hanno visto a fianco di questo nuovo Adamo una nuova Eva, che è la Vergine Maria, cioè la donna per eccellenza. Eva è stata la prima donna che ha dato la vita quindi a tutto il genere umano, ma purtroppo ha trasmesso loro anche la disgrazia, diciamo la nostra caduta. La Vergine Maria invece immacolata, cioè senza colpa originale, con lei che ha schiacciato il capo del serpente, è la vera donna, la donna per eccellenza. Quando Gesù la chiama donna non è per mettere le distanze tra sé e lei, quanto piuttosto per sottolineare questo ruolo unico della Vergine Maria appunto nella economia della incarnazione e della redenzione. Quindi si potrebbero dire tante altre cose, ma lascio il tempo per un'altra domanda. E quindi per concludere, la Vergine Maria non è qualcosa di marginale nella fede cristiana, ma è al cuore della fede cristiana, come dice Papa Pio IX, voluta da Dio con un solo e medesimo decreto con il figlio suo. Sono indissolubilmente uniti, madre e figlio, nel mistero dell'incarnazione del verbo. Dio ci ha tanto amato al punto che si è fatto uomo ed è venuto abitare in mezzo a noi. Ecco, leggo dal libro di Sant'Alfonso, Maria, scrive Sant'Alfonso, è la tesoriera di tutte le divine grazie, onde chi desidera grazie deve ricorrere a Maria e chi ricorre a Maria deve star sicuro di avere le grazie che desidera. Ci può spiegare questo? È una bellissima citazione, la ringrazio di averla rappresentata a chi ci ascolta e ci ricorda un'altra verità insegnata dalla Chiesa, ma che viene anche dalla rivelazione divina, cioè Maria mediatrice di tutte le grazie. Allora, quando si pronunciano queste parole i protestanti hanno un collasso nervoso perché San Paolo giustamente dice che Gesù Cristo è l'unico mediatore, ed è vero, il mediatore tra Dio e l'umanità è Gesù che è nello stesso tempo vero Dio e vero uomo, ma mediatrice tra Gesù e noi vi è Maria. Lo vediamo dal fatto che Gesù Cristo facendosi uomo e venendo in mezzo a noi per salvarci anche, non solo per questo, ha voluto venire al mondo tramite Maria, scelta da lui per questo fine come l'angelo lo testimonia, è la benedetta fra tutte le donne, al contrario di Eva. Il Signore è con lei, sono sempre assieme, non c'è traccia di peccato se il Signore è sempre con lei. Ecco quindi che abbiamo avuto solo tramite la Vergine Maria il Redentore, il Salvatore, il Figlio di Dio, che è l'autore della grazia. Se da lei abbiamo avuto l'autore della grazia, da lei abbiamo ogni altra grazia. Per farlo capire Gesù Cristo ha voluto che il primo miracolo, e quindi in un certo senso una delle grazie che Dio ci dà, dei segni che Dio ci dà, quello di Cana, sia avvenuto su precisa preghiera e intercessione di Maria. Senza la preghiera della Madonna Cristo non avrebbe compiuto il primo miracolo. Ed è solo a causa della preghiera della Madonna che Cristo ha compiuto questo primo miracolo e lo ha fatto per gli Apostoli, cioè per la sua Chiesa. Da ciò noi capiamo che tutti gli altri miracoli, tutte le altre grazie, tutti gli altri benefici naturali, ma soprattutto sovrannaturali, giungono noi tramite la sua intercessione. E così ha voluto pure che ai piedi della croce la Vergine Maria, di cui leggiamo nel Vangelo che Simeone aveva profetizzato, una spada di dolore trafiggerà la tua anima, il tuo cuore, ebbene ha unito la sua passione a quella di Gesù. E quindi in un certo senso ci ha dato anche la passione a Gesù, da cui quest'altro titolo glorioso che adesso nell'ondata antimariana che è venuta con il concilio viene negato, quello di corredentrice, anche lì i protestanti si rizzano i capelli sulla testa. Ma i protestanti sono i primi a contraddire il anche se si dicono evangelici, perché nel Vangelo vediamo che Maria, nel Magnificat, ispirata da Dio, dice tutte le generazioni mi chiameranno Beata. E in effetti tutte le generazioni fino ad oggi, da duemila anni, nel mondo intero, ovunque vi sia un cattolico, viene proclamata la Beata Vergine Maria e i protestanti si rifiutano di farlo. Non vogliono rendere nessuna devozione, nessun culto, nessun amore, ma offendendo la madre non si accorgono purtroppo di offendere il figlio. Ecco quindi le parole di Sant'Alfonso sono assolutamente vere, dobbiamo passare sempre tramite lei e questo è raffigurato bene in quelle immagini della Madonna che si ispirano al miracolo della Rue du Bac, quando Maria parve nel 1930 a Santa Caterina a Labouret, di queste mani della Madonna rivolte verso il mondo, da cui scendono quei raggi che sono il simbolo delle grazie, tutte passano attraverso di lei. Leggo sempre da Sant'Alfonso, quanto fu preziosa la morte di Maria per i preci che l'accompagnarono e per la maniera in cui avvenne. Come avvenne? E questa è una questione a noi ignota nei dettagli e sulle quali c'è comunque una discussione. Sant'Alfonso parla di morte di Maria ed è l'opinione di tantissimi autori, a tutti quanti sulla scorta di quanto scrive un autore che era stimato contemporaneo di San Paolo, Dionigi Lareopagita, che probabilmente invece è un autore molto posteriore e che quindi non può essere considerato un testimone dei fatti e degli avvenimenti. Gli orientali parlano di dormizione di Maria, quindi di essersi come addormentata. Molti teologi, con i quali concordo per quel che vale il mio parere, l'abbiamo scritto anche su Dalizium un articoletto tanto tempo fa, sostengono invece che Maria non è mai morta. Pio XII ha voluto esplicitamente evitare di parlare della morte di Maria, usando una circonlocuzione. Quando ha definito come verità di fede rivelata l'assunzione di Maria in cielo, col corpo e con l'anima, questa felicità è legata col tema che lei mi ha invitato a trattare. Ha usato una circonlocuzione, cioè giunta al fine, al termine, adesso cito a memoria, della sua carriera terrena, cioè praticamente dei tempi in cui la Madonna doveva stare sulla terra. Ma non ha voluto dire una volta che Maria è morta è salita in cielo in corpo e anima, a differenza di noi, il cui corpo dovrà attendere la resurrezione finale, per ora giacerà invece nel sepolcro. Quindi Maria è morta oppure no? Allora, la morte ci insegna San Paolo, anche se di per sé è un fenomeno naturale, per grazia di Dio l'uomo aveva un dono, detto prete naturale, dell'immortalità. Questo dono l'abbiamo perso col peccato originale. Quindi tutti gli uomini muoiono non solo per motivo di natura, ma dal peccato in poi come castigo. La morte è un giusto castigo per il peccato. E San Paolo lo dice, stipendio del peccato è la morte. E infatti nella Apocalisse si vede la morte sempre unita al peccato. Ora, Maria è l'immacolata, perché doveva essere madre di Dio. Immacolata senza colpa originale. Quindi dovrebbe essere esente dalla morte che è pena del peccato. Ma si obietta, e per questo si dubita, anche Gesù è l'innocente, eppure è morto. Quindi anche Maria, per uniformarsi a Gesù, deve essere morta. Ma questo non è un argomento stringente, perché Gesù doveva morire realmente per la redenzione del genere umano, cioè pagare con il suo sangue, con la sua morte, la nostra morte al peccato. Non così Maria, la quale comunque è misticamente morta ai piedi della croce. Ha unito la sua sofferenza a quella di Gesù e come è morta spiritualmente con lui. Ragione per cui questo motivo che vorrebbe necessaria la morte di Maria non sussiste. È probabile quindi che la Madonna non sia morta, al massimo sia come dire addormentata, ha finito il suo corso terreno, ha mutato la vita terrena in una vita celeste per entrare nella gloria. L'altra possibilità invece è che sia morta, come si vede in alcuni santi, come di amore per il suo Signore e che allora, subito dopo, è risorta, nel senso che il suo corpo, come quello di Gesù, con la differenza di Gesù, è Dio. E quindi da sé si ridà la vita o il pane gliela dà. Nel caso di Maria invece ha avuto questo dono da Dio. Certamente non doveva essere corrotta dalla morte, vinta dalla morte, colei il cui corpo è stato il Tempio di Dio, il cui seno ha portato il Signore Gesù, non casualmente ma per disposizione divina. Un'ultima domanda, sempre prendendo spunto da questo libro di Santa Forza. Dice, Maria fu la regina dei martiri, perché il suo martirio fu più lungo e più grande di quello di tutti i martiri. Abbiamo avuto modo di accennare, perché Maria ha sempre sofferto, come Gesù. Di Gesù si dice, tutta la vita di Cristo fu croce e martirio. E' l'imitazione che lo dice. Fin dal primo istante della sua incarnazione, Cristo che aveva per dono divino, era il verbo, ma poi anche come uomo, la possibilità quindi di conoscere, ebbene già si offriva e voleva morire per me. E Sant'Alfonso ce lo ricorda anche nella canzone, è una poesia splendida, tu scendi dalle stelle. Ora, la Vergine Maria, almeno dal momento in cui sa che deve essere la madre del Messia, sa anche che il Messia, il figlio di Dio, è l'uomo dei dolori. Sa quindi che la sua missione sarà di portare il dolore di suo figlio. E questo le sarà detto apertamente da Simeone. Quindi anche a te, quando Gesù aveva 40 giorni, anche a te una spada di dolore trafigge la tua anima. Quindi una spada che trafigge l'anima è il cuore dalla morte. In un certo senso, quindi, è come morta mille volte nel pensare a tutta la sofferenza di Cristo, alla quale lei ha dato il suo fiat, cioè il suo accordo. Vedete, anche in questo Maria è corredentrice, perché Maria voleva tutto quello che Dio voleva. Lo dice nell'Annunciazione dell'Angelo. Ecco l'ancella del Signore, la serva del Signore. Si ha fatto di me secondo la tua parola. Maria quindi ha sempre voluto fare la volontà di Dio. Ora, la volontà del Padre era la morte sulla croce del figlio per noi. Il Padre ha tanto amato il mondo da avergli dato il suo figlio unigenito, in redenzione delle anime. E Gesù è stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ora, Gesù voleva quello che voleva il Padre, obbediente. Maria voleva quello che voleva il figlio, Gesù, obbediente anche lei. E quindi ha voluto la morte di Gesù. Sembra terribile dirlo. Per lei è stato il più grande dolore, ma nella sua fede, nel suo amore per Cristo, ecco che ci ha offerto Gesù. In questo senso, come madre e come credente, ci ha dato il suo stesso figlio e lo ha offerto in sacrificio per noi. Certamente in questo modo è la regina dei martiri ai piedi della croce. Non c'è nessun dubbio che Sant'Alfonso avesse ragione. Da un punto di vista storico voglio ricordare che il libro di Sant'Alfonso, che poi era un grande intellettuale, fu scritto un po' per rispondere al minimalismo nella devozione di Maria di Muratori, che è un grande storico, un grande personaggio, però anche se è sacerdote, influenzato dall'illuminismo del suo tempo, il Settecento. Sant'Alfonso nello stesso periodo, ma ha avuto una grandissima invece spirito di devozione popolare, pur essendo lui un nobiluomo, e quindi questo libro, La gloria di Maria, è come il contraltare di questo minimalismo, questa freddezza illuminista verso la Madonna e verso quindi l'incarnazione e il mistero della fede cristiana, sottolineando invece anche con tenerezza la bellezza della fede cristiana, dal Natale fino alla croce. Ed eccoci ai fatti storici. Oggi abbiamo deciso, mi hanno deciso un po' insieme, anzi io l'ho proposto e l'ho accettato, di parlare dell'inquisizione. Io mi rendo conto che parlare dell'inquisizione sia qualcosa di complicato, perché sarebbero tante le cose da dire, da precisare, perché c'è stata veramente questa leggenda nera, le abbiamo sentite in tutti i colori, però vediamo magari di tracciare i punti salienti, come nacque l'inquisizione, perché nacque l'inquisizione? Sì, lei mi invita a nozze, è un tema che amo veramente tantissimo, e tra l'altro in questi ultimi decenni, anche da un punto di vista storiografico, si stanno facendo passi da giganti in questa materia, anche grazie all'apertura degli archivi del Sant'Uffizio. Prima di tutto bisogna dire che l'inquisizione, il termine è un termine giuridico, e ancora oggi nell'ordinamento giuridico di tutti i paesi c'è il magistrato inquirente, che fa inquisizione per eventuali reati, e infatti l'inquisizione si struttura come un tribunale, è un tribunale, un tribunale particolare, è stato chiamato in un famoso libro, un tribunale della coscienza, simile al tribunale di penitenza, allo scopo di ottenere la conversione, la redenzione, il perdono del peccatore. Il tribunale di penitenza, nel cosiddetto foro interno, invece il tribunale dell'inquisizione, è un foro esterno, cioè considerando più il delitto che il peccato. Di per sé, tra le doti della Chiesa come società perfetta, la società perfetta significa che ha tutti i mezzi per raggiungere il proprio fine, le società perfette sono due, lo Stato e la Chiesa, uno nell'ambito temporale, l'altro nell'ambito spirituale. Ora, la Chiesa quindi, come tale, fin dal principio è stata dotata dal fondatore, Gesù Cristo, che è Dio, di tutti i mezzi per provvedere al suo fine e quindi anche di vegliare alla purezza della fede, che è il fondamento della Chiesa, perché la Chiesa è la società dei credenti, e quindi di estirpare il peccato, che è uno dei più gravi contro la fede, che si chiama l'eresia. Se poi si rinnega il cristianesimo in toto, si chiama apostasia. Ora, questo compito è stato svolto naturalmente, fin dal principio, dai Vescovi. Solo che a un certo punto della storia della Chiesa, cioè di fronte all'eresia catara, che era un rinnovamento del manicheismo, praticamente un orrore che sosteneva che il Dio creatore è un Dio cattivo, e che la creazione è un male, quindi una cosa orribile, mostruosa, di fronte a questa orribile eresia che si ammantava di un'apparenza cristiana, ma che di cristiana non aveva niente, ecco che i papi hanno dovuto intervenire. E quindi lì partiamo di un periodo di preparazione dell'Inquisizione, potremmo dire, senza andare ad Amedeva, da Innocenzo III a Gregorio IX, che poi sono i più grandi papi del Medioevo, o tra i più grandi papi del Medioevo. Innocenzo III, tanto per dire, è colui che approvò la regola di San Francesco e l'Ordine Dominicano. Gregorio IX poi era intimo amico di San Francesco d'Assisi. Ebbene, è Gregorio IX che alla fine, dopo questo periodo di preparazione, instaura il Tribunale dell'Inquisizione. È un tribunale praticamente di legati papali, perché i vescovi tante volte erano dipendenti dei sovrani i quali volevano patteggiare con l'eresia, oppure erano deboli di fronte all'errore in quanto c'erano parte di famiglie che magari erano collegate con l'eresia. Era necessario intervento di Roma. Quindi Roma sceglie dei legati che non necessariamente fanno parte di un ordine igioso o di questo ordine igioso, ma nella pratica, specie agli inizi, furono soprattutto dominicani. In altre regioni d'Italia, per esempio, erano anche i francescani, che proprio come rappresentanti del Papa dovevano dirigere un tribunale. Questa è l'Inquisizione medievale. Poi l'Inquisizione è un fenomeno che è durato, quindi possiamo dire così, dal XIII secolo fino alla chiusura del Concilio Vaticano II, 1965, e quindi ha avuto dei cambiamenti enormi nel corso dei secoli e possiamo distinguere tre Inquisizioni simili, ma diverse, nettamente diverse. La prima, possiamo chiamare Inquisizione medievale, che nasce, come l'ho descritto, in maniera più o meno episodica, e che ha il suo fulcro attorno all'eresia catara. Poi dopo diventa, diciamo, va quasi in sonno, per esempio, è un brutto termine, perché diventa meno stringente la necessità dell'Inquisizione. Poi c'è una seconda ondata, per usare un altro brutto termine, dei tempi di adesso, in Spagna. Questo di fronte a un altro pericolo, quello del giudeismo e dell'islamismo, che una volta che la Spagna era stata riconquistata dai cattolici, dopo gli 800 anni di indominazione islamica, gli ebrei e musulmani alleati si convertivano a volte al cristianesimo falsamente. E allora c'era l'enorme problema di questi falsi cristiani che dal di dentro distruggevano la fede cristiana. Di fronte a questo enorme problema nacque la famigerata, ma calunniatissima Inquisizione spagnola, approvata da Papa Sisto IV. Siamo nel Quattrocento, quindi nel Quindicesimo secolo. Infine abbiamo l'Inquisizione romana, che è una congregazione, anzi la prima delle congregazioni, diremo i ministeri in termine profano, congregazione romana della Curia romana, voluta da Caraffa, Gian Pietro Caraffa, fondatore dei Teatini con San Gaetano da Tiene, che divenne poi Papa Paolo IV, e che ottenne quindi la fondazione di questa congregazione del Sant'Ufficio dell'Inquisizione, a Roma, quindi centralizzata, il cui prefetto doveva essere sempre il Papa, tranne con San Pio V, che anche quando non era Papa fu l'Inquisitore generale, fu l'eccezione, e che aveva come scopo principale di combattere il protestantesimo. Quindi, come vede, tre periodi diversi di fronte a tre crisi enormi, terribili, diverse. Poi, anche lì, dopo la fase acuta del protestantesimo, l'Inquisizione ha continuato di lavorare, di esistere, ma in maniera molto più blanda, fino alla fine del Settecento, quando l'Illuminismo, già prima della Rivoluzione Francese, tende a sopprimere questi tribunali in quasi tutti gli stati di Europa. C'è una sopravvivenza minima nello Stato della Chiesa, in altri casi, una restaurazione breve, per esempio Inquisizione Spagnola in Spagna con la restaurazione, eccetera. Ma poi, praticamente, l'Inquisizione resterà una congregazione romana che non avrà più i mezzi dell'aiuto dello Stato per i suoi tribunali e che quindi sarà soprattutto dottrinale di condannare gli errori, gli eretici, ma senza più modo di incidere, o quasi. Con il risorgimento, il Stato della Chiesa viene, ahimè, viene soppresso e conseguentemente anche quest'ultimo supporto dello Stato nei confronti della Chiesa viene a mancare. L'Inquisizione rimane solamente più una congregazione romana dottrinale, prenderà il nome di Sant'Uffizio e non più di Inquisizione con San Pio X e poi verrà soppressa, ecco lì, è proprio la sua fine, col Concilio Vaticano II, realizzando quello che i modernisti avevano chiesto, come ricorda San Pio X ma in giga per scendi, quindi la soppressione del Sant'Uffizio, lo otterranno da Paolo VI nel 65, la congregazione per la dottrina della fede che ha preso il posto, occupa il palazzo del Sant'Uffizio ma non ha più nulla a che vedere, anzi potremmo dire è un contraltare dell'antica Inquisizione, quindi purtroppo sarebbe come se uno Stato si privasse della Polizia e ci immaginiamo, la Polizia avrà i suoi difetti, ma ci immaginiamo la gioia per i ladri, malfattori e delinquenti se non ci fosse nessuno che potesse reprimere il loro mal agire. Forse poi, forse mi vorrà chiedere un'altra cosa, cioè... sull'Inquisizione Medioale, cioè l'eresia dei Catari, in che cosa consisteva e che impatto sociale aveva? Allora, sono due cose diverse, la prima, gliel'ho già detto fondamentalmente, l'eresia catara che poi risale al manicheismo, quindi di mani, già ai tempi dell'impero romano e poi, prima ancora, l'ognosticismo in fondo, praticamente consiste nel pensare che c'è un dualismo, quindi un Dio buono e un Dio cattivo, che la materia e quindi il creato viene dal Dio cattivo, conseguentemente il vero Dio, Dio buono, è come Satana, quindi è la bestemmia massima nei confronti di Dio e invece il Dio cattivo viene presentato come Dio buono, ecco, Dio cattivo, Satana viene presentato come Dio buono, Satana non è Dio. Questo è fondamentalmente, in una struttura gnostica, fondamentalmente, un errore che poi ritorna costantemente sotto nomi diversi nel corso della storia. Implicazioni sociali ne aveva poi tante, siccome tutto quello che viene dal creatore è cattivo, il caterismo pensava che era cattivo il matrimonio, era cattiva la procreazione, era cattiva la vita, conseguentemente i cateri erano dei sostenitori, un po' come dei pannella del Medioevo, della distruzione del matrimonio, della famiglia, della vita umana e dei propagandisti del suicidio, per esempio, che era anche una delle loro pratiche, il suicidio, e poi della sterilità, non volevano l'affiliazione, praticamente. Quindi, era profondamente antisociale, in più, la carica eversiva nei confronti della Chiesa, evidentemente, nella quale voleva fare una contro-Chiesa, una simil-Chiesa assolutamente opposta. Si dicevano pacifisti, vegetariani, eccetera, anche lì una specie di New Age, ma quando si trattava di ammazzare chi non era d'accordo con loro, il loro pacifismo era messo tra parentesi, perché è tipico dei pacifisti di essere poi invece magari violenti. Questo per quel che riguarda il caterismo. Ecco. Lei ha già accennato, ma io ho letto anche io molto sull'Inquisizione e una cosa che emerge in maniera chiara è che proprio in quel periodo, proprio grazie all'Inquisizione, nacquero una serie di istituti giuridici di garanzia a favore, chiamiamolo, dell'imputato, che ancora ci portiamo dietro. Assolutamente. Ci può aggiungere qualcosa su questo? Sì, evidentemente bisogna pensare che gli istituti giuridici del tempo non andavano tanto per il sottile e possiamo dire che evidentemente tutti quanti preferivano passare dal Tribunale della Chiesa piuttosto che dal Tribunale laico, il Tribunale dello Stato. Per esempio la storiografia ha appurato che lungi dall'essere una caratteristica dei Tribunali della Chiesa e dell'Inquisizione in particolare la cosiddetta caccia alle streghe, che poi delle streghe delinquenti c'erano tra l'altro ma a parte questo invece i primi e i più dubitanti più scettici a questo proposito e che volevano quindi nei loro manuali per gli inquisitori invitavano la più grande prudenza a non credere a tutto quello che veniva raccontato eccetera sono proprio gli inquisitori e in particolare gli inquisitori spagnoli laddove invece nell'ambito del protestantesimo soprattutto germanico e anche del pensiero laicista se si può dire per esempio Baudin che è uno degli autori più noti per la tolleranza per il dialogo interreligioso per la preminenza dello Stato sulla Chiesa eccetera eccetera e lui era un cacciatore di streghe per dire quindi quante bugie vengono raccontate a questo proposito l'inquisizione non era un manipolo di sanguinari eccetera ma era come ripeto un tribunale e che quindi conseguentemente aveva gli avvocati aveva il diritto aveva tutte le garanzie che possono esserci a proposito e poi cosa che bisogna chiarire l'inquisizione in quanto tale prima di tutto aveva come soggetti solamente i battezzati i non battezzati di qualunque religione fossero non erano direttamente sotto la giurisdizione dell'inquisizione è un tribunale interno alla Chiesa non esterno secondariamente l'inquisizione si limitava a giudicare sull'eresia più o meno la vicinanza all'eresia di qualche battezzato che quindi accettava le regole della società Chiesa le altre pene cioè le pene possiamo dire così corporali fino alla pena capitale non erano a strettamente parlare di competenze non erano di competenze del tribunale della Chiesa ma del tribunale laico del tribunale dello Stato quando la Chiesa dichiarava qualcuno eretico impenitente perché si era rifiutato di correggersi oppure era ricaduto più volte nella medesima eresia dopo il perdono ecco che veniva rilasciato dal tribunale ecclesiastico al tribunale dello Stato in quanto l'eresia era considerato un delitto anche dallo Stato e tra l'altro chi ha messo la pena capitale per l'eresia è un sovrano che è particolarmente amato dai progressisti e dai laicisti Federico II proprio lui sembra che poi tanto ortodosso non era e che mise poi questa legge quindi le punizioni potremmo dire dal codice civile erano del tribunale dello Stato la Chiesa doveva solamente giudicare dell'eresia del soggetto con lo scopo non tanto di condannare quanto di perdonare cioè gli sforzi del tribunale ecclesiartico era verso la correzione del colpevole quindi se ho capito bene vediamo se ho capito l'inquisizione aveva la funzione quindi lo scopo di condannare quel pensiero quelle idee che rappresentavano un veleno morale o un veleno sociale era questo in sostanza allora sia un veleno per la fede per la purezza della fede che per la società chiesa sarebbe la distruzione della società chiesa perché si fonda sulla fede poi lo Stato soprattutto invece badava le conseguenze sociali e morali dell'eresia sì perché era insieme e se lo Stato era cattolico era fondato sui valori religiosi e quindi anche su quelle conseguenze che potevano distruggere la struttura sociale e morale dello Stato d'altronde la nostra società che è in orrore l'inquisizione eccetera eccetera ha anch'essa tutti i codici penali dei nostri stati moderni e laici il delitto di opinione chi nega la verità di determinati fatti storici relative alla seconda guerra mondiale è punibile anche col carcere attualmente nessuno ne parla ci sono delle persone per esempio una persona in Francia che neppure si è pronunciato su questo tema ma su un altro tema collegato solo con dei libri non ha ucciso nessuno non ha picchiato nessuno neppure con uno schiaffo e che è in prigione solo per le proprie idee questi sono dei principi per esempio anche nella nostra Costituzione io non entro in merito di dire che cosa ne penso di questo ma per esempio la ricostituzione del paradiso fascista è vietata oppure che so io la legge Mancino o leggi successive condannano determinate discriminazioni anche a gente che non ha fatto male a nessuno solo che esprime le proprie opinioni in determinate materie possono essere condividibili oppure affatto non entro nel merito il progetto di legge Zan vorrebbe quindi condannare l'omofobia quindi determinate idee in materia di omosessualità come un delitto quando magari sarebbe un delitto anche se uno non leva un dito non muove un dito non dà neanche un buffetto ad una persona che la pensa in maniera diversa esprime solo le proprie idee quindi che cosa vediamo ogni società umana cioè un consorzio umano deve fondarsi necessariamente su dei principi fondanti questi principi possono essere quelli della fede in una società cattolica cristiana della religione in generale come era nel mondo antico quale che fosse questa religione oppure invece sui nostri moderni nostri ahimè moderni principi di tolleranza di democrazia di libertà eccetera 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 per cui chi non è d'accordo è colpevole quindi io tollero qualunque cosa tranne chi è contrario al principio di tolleranza in questo caso deve essere severamente punito il che vuol dire non c'è società senza degli principi fondamentali e la società per difendersi deve difendere questi principi fondamentali perseguendo coloro che li negano perché negandoli distruggono i fondamenti stessi della società il problema quindi non è la libertà di opinione perché tutti quanti mettono un limite alla libertà di opinione ma il problema è quali sono le opinioni vere e quali sono quelle sbagliate dove si pongono questi limiti vogliamo costruire la società su Dio o contro Dio ecco questo semmai deve essere detto ma non è una questione di libertà certo che sentire parlare oggi di inquisizione sentendo le cose che si dicono e viviamo in questa società insomma è tutto dire questa è una società dove effettivamente la libertà di pensiero è andata la libertà di pensiero non c'è non c'è evidentemente o è estremamente limitata è confinata e purtroppo quello che vediamo che tante volte il male morale viene promosso il bene viene chiamato male e il male viene chiamato bene cioè possiamo dire è un'inquisizione rovesciata di segno negativo cattivo e invece possiamo dire che questi tribunali della chiesa non solo hanno preservato hanno preservato da tanti mali non solo la chiesa e le anime ma la società per esempio laddove ci sono state risparmiate delle guerre tremende delle divisioni spaventose eccetera è stato grazie al tribunale dell'inquisizione certo non c'è dubbio ed eccoci alla parte riguardante le iniziative le iniziative dell'istituto sono sempre tantissime ne abbiamo parlato anche altre volte mi rendo conto comunque che in questo periodo è abbastanza difficile portarle avanti o portare avanti alcune iniziative come vi siete organizzati Don Francesco per cercare di mantenere un po' tutte le iniziative che solitamente di consueto voi portate avanti questo è un punto dolente perché evidentemente ormai da più di un anno non solo noi ma tutti quanti ci troviamo di fronte a enormi difficoltà che sono dovute non tanto alla situazione sanitaria ma alle decisioni dei nostri governi e governanti che mettono un po' i bastoni fra le ruote senza voler incitare la disobbedienza quindi la situazione è praticamente difficile allora malgrado questo per fortuna riusciamo ad assicurare la celebrazione della Santa Messa ovunque anzi cercando di andare anche dove non si andava precedentemente non riusciamo ancora a soddisfare tutte le richieste ma facciamo veramente possibile naturalmente in condizioni più difficili perché viaggiare è diventato più complicato vorrei profittare della sua cortesia per ricordare ai fedeli che tutti quanti hanno il diritto non solo che viene da Dio ma anche il diritto nel senso che nessuno lo proibisce di assistere alla Santa Messa quindi le sante messe non sono state proibite sono ancora aperte al pubblico e conseguentemente ci si può spostare tutto il necessario per poter assistere alla Santa Messa che viene celebrata dal nostro istituto in varie regioni d'Italia dell'estero o del mondo intero insomma tutto il mondo no ma abbastanza ci stiamo organizzando secondariamente purtroppo altre iniziative a causa delle circostanze attuali cioè dell'impossibilità pratica e concreta malgrado la nostra volontà di poter organizzare queste iniziative abituali non sono una novità anche quest'anno verranno a mancare per esempio il pellegrinaggio di Loreto di Osimo Loreto che è bellissimo anche quest'anno sarà la seconda volta di fila non si potrà fare l'abbiamo spostato ottobre quest'anno l'anno passato probabilmente vedremo di fare la stessa cosa questa volta così pure le giornate per la regalità di Cristo Re e i convegni albertariani di Milano e poi il convegno di Parigi non si possono organizzare perché sarebbe troppo complesso o addirittura impossibile quello che noi pensiamo speriamo di poter organizzare sarà per l'estate quindi gli esercizi spirituali e le colonie di vacanza che sono tanto necessarie perché l'educazione dei giovani e dei giovanissimi è in pericolo non grave gravissimo di più veramente gravissimo e i genitori tante volte dormono e non si accorgono che gli vengono rubati i figli gli vengono portati i figli e i figli addirittura vengono messi contro la propria famiglia e contro la loro fede quindi bisogna fare qualcosa e una settimana o 15 giorni di vacanze è veramente troppo poco ma è almeno qualcosa e quindi cerchiamo di organizzare anche quello e speriamo almeno quest'estate se come l'estate scorsa che le cose erano quasi normali di poter ritornare alla normalità e poi naturalmente con l'anno prossimo pensiamo che speriamo preghiamo e pensiamo ci auguriamo che tutto sia normale per il resto lei dice di no possiamo temerlo ma lì sarebbe un discorso troppo lungo per il resto si avvicina la settimana santa e quindi qui naturalmente nella casa madre e altrove dove c'è il sacerdote residente ci organizziamo per celebrare con la maggiore solennità possibile le bellissime cerimonie della settimana santa naturalmente per esempio a Torino ogni anno facciamo la processione per le strade della città per il giorno delle palme e quest'anno non sarà possibile non perché materialmente non sia possibile ma perché evidentemente non ci sarebbe permesso di farlo e quindi si tratta di perseverare bisogna che la gente non si abitui alla situazione non si abitui a non assistere alla messa non si abitui alla situazione a rassegnarsi a quello che purtroppo sta accadendo di mantenere viva la propria fede e di nutrirla ancora di più diciamo approfittando anche con la lettura anche con un'occasione come questa e con la preghiera e naturalmente questo va da sé la preghiera il gran mezzo della preghiera per ritornare a Sant'Alfonso quella per fortuna non l'hanno ancora proibita non è antigenica e quindi si può continuare a pregare grazie a Dio quindi auguro a tutti una buona quaresima il tempo di passione che comincia tra poco una buona e fervente settimana santa pensando ai giovedì santo al grande mistero della Eucaristia e venerdì santo quella della passione alla Pasqua della risurrezione Cristo è risorto ha vinto il demonio ha vinto il peccato ha vinto la morte ha vinto tutti i suoi nemici e così sarà di nuovo ne siamo assolutamente certi quindi la vittoria è dalla parte di Gesù Cristo spetta a noi di stare con lui per partecipare alla sua vittoria non dobbiamo farci spaventare incutere timore incutere paura il demonio fa rumore e sembra più potente ma in realtà è Dio che è l'ondipotente e invece il suo nemico è solamente un vinto è un miserabile e coloro che lo seguono sono destinati alla sua stessa brutta fine speriamo che non sia la nostra invece speriamo invece di essere vittoriosi con Cristo Re con questo quindi saluto e benedico tutti gli ascoltatori e l'appuntamento al prossimo incontro e grazie anche al mio intervistatore grazie sempre per la sua disponibilità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti